Ispezione della Guardia Costiera, caccia alla pesca illegale, raffica di illeciti in fritta, sanzione per 56.000 euro. Conclusa operazione della Guardia Costiera della Sicilia orientale a tutela della filiera della pesca alla quale ha partecipato la Capitaneria di Porto di Siracusa. L'operazione complessa denominata Fish Reproduction 2024, condotta nell'ambito territoriale delle Capitanerie di Porto della Sicilia orientale, ha visto impegnati donne e uomini della Guardia Costiera in diversa articolata e mirata operazione di controllo in mare, a terra, all'indotto commerciale, agli approdi e ai punti di sbarco, lungo tutta la filiera ittica dei rispettivi territori di giurisdizione. Il dispositivo messo in campo, coordinato a livello regionale e articolato a livello territoriale dal centro di controllo aria e pesca della Direzione Marittima di Catania, ha portato in questi ultimi giorni nell'area di giurisdizione della Guardia Costiera della Sicilia orientale all'effettuazione di oltre 638 controlli, 40 illeciti amministrativi, 19 attrezzi da pesca sequestrati, sanzioni pecuniarie che ammontano circa 56.000 euro per un complessivo circa di una tonnellata di prodotto ittico sequestrato. Dall'analisi delle attività condotte è emerso che le maggiori violazioni riscontrate e sanzionate riguardano la mancata tracciabilità e l'irregolare etichettatura dei prodotti ittici, sia nella grande distribuzione all'ingrosso che nella vendita al dettaglio. In particolare le ispezioni dei militari della Guardia Costiera sono state indirizzate ai controlli sull'utilizzo di attrezze da pesca irregolari e non consentiti sia nell'ambito della pesca professionale che ricreativa. In tale contesto assume rilevanza l'attività condotta dai militari dei team ispettivi della Guardia Costiera di Catania, Pozzalla e Siracusa. Nello specifico il personale militare della Capitania di Porto di Siracusa nel porto di Marzamemi ha sanzionato il proprietario di un'imbarcazione da di porto irregolarmente armata con attrezze da pesca e pronta per essere impiegata in attività professionale. Inoltre il natante risultato privo di assicurazione e certificato d'uso motore è stato sottoposto a sequestro unitamente agli attrezzi da pesca non consentiti. Tra sgressori sono state combinate sanzioni amministrative per un totale di 3.300 euro. Negli scorsi giorni infine sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 3.000 euro nei confronti di due pescatori subacquei intenti ad esercitare pesca illecita nella Baia di Santa Panagia. Uno di questi è stato sorpreso con un quantitativo di ricci di mare superiore al minimo consentito. Gli esemplari catturati in numero di 150 sono stati immediatamente rigettati in mare poiché ancora in vita e pertanto restituiti al loro habitat naturale.